Musica Ben trovate a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. A più di un anno dell'inizio della guerra in Ucraina sono stati donati, grazie all'associazione Cassago Chiama Cernobil, 100 posti letto e un generatore a una piccola scuola ucraina. E in quest'edizione parliamo anche dei due container di rifiuti, tra i quali ammianto e carburanti esausti. Sono stati raccolti in tre anni lungo le strade e lecchese in tutto, sono 43 tonnellate, grazie al progetto Road Trash. E dal corno bione si vede un'ombra antropomorfa, è il trovante realizzato per Antonio Stoppani dall'artista Gaetano Orazio. Ora lo si può ammirare in dieci sculture e in dieci comuni diversi. Vediamo i servizi. Il nostro ospedale ha ricevuto i primi 42 letti donati da vecchi amici italiani. Siamo grati all'associazione Cassago Chiama Cernobil per il lavoro svolto e la continua assistenza al nostro ospedale. Sono le parole di riconoscenza del dottor Piuwe Varserchi, primario dell'ospedale di Koryukivka, provincia della regione di Cernigov in Ucraina. Martedì 28 marzo, il primo dei due tiri inviati dall'associazione Cassago Chiama Cernobil, è giunto al piccolo ospedale ucraino, carico di nuovi letti per gli ammalati. L'associazione Brianzola prosegue infatti la sua attività di aiuto nei confronti della popolazione ucraina. Nel nostro piccolo siamo felici di dare una mano ai nostri amici ucraini in questa assurda guerra che sembra non avere fine, spiega Armando Crippa, presidente di Cassago Chiama Cernobil. Grazie alla generosità del nostro territorio abbiamo raccolto fuori dai supermercati 25 tonnellate di beni alimentari, prodotti igienici e sanitari da mandare a Cernigov. Abbiamo inoltre inviato 114 letti per l'ospedale di Koryukivka, una piccola struttura alla quale avevamo già donato due ambulanze alcuni anni fa. Ma, prosegue Crippa, sapevamo che l'ospedale aveva bisogno di letti, a maggior ragione adesso con la guerra, e siamo felici di aver colmato questo bisogno aggiudicandoci oltre 100 letti dismessi dall'ospedale di Lecco Emerate, grazie a un bando regionale. Peraltro 5 di questi sono letti elettrici destinati ai pazienti in dialisi. Il secondo tiro raggiungerà destinazione proprio in questi giorni. Intanto è stato consegnato anche un potente generatore di corrente che verrà utilizzato per le scuole del paese di Voznesenk vicino a Cernigov. Non ci fermiamo, conclude Crippa, la situazione a Cernigov dove la nostra associazione opera attualmente è più tranquilla. Qualche ristorante ha riaperto, i bambini vanno a scuola, ma è sempre una tranquillità relativa e a ricordarlo ogni giorno è il coprifuoco. Portate a termine queste importanti donazioni si guarda già alle prossime. L'obiettivo è quello di consegnare nei prossimi mesi due ambulanze, una per l'ospedale di Cernigov e l'altra destinata ai militari e di realizzare in estate il progetto di ospitalità dei bambini in Italia. Un triste record per una cattiva abitudine che purtroppo non passa mai di moda grazie al progetto Road Trash, promosso dalla provincia di Lecco in collaborazione con Silea, negli ultimi tre anni sono stati raccolti e rimosse dalle strade extraurbane della nostra provincia oltre 48 tonnellate di rifiuti. Fra questi non solo i resti delle gite domenicali, ma anche amianto e carburanti esausti. A fronte di queste cifre, si tratta di quasi l'equivalente di due container, la partnership fra la società pubblica e le Villa Locatelli è stata confermata e finanziata anche quest'anno con un contributo di 20.000 euro. Abbiamo voluto riproporre questo progetto, dichiarano la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hoffman e il consigliere provinciale delegato all'ambiente Fabio Mastro Berardino, perché rappresenta un ottimo esempio di collaborazione e permette di risolvere i problemi di degrado ambientale. Progetti come questo fanno capire il ruolo e il valore aggiunto della provincia nel coordinare le iniziative che i singoli comuni, soprattutto se di piccole dimensioni, non potrebbero organizzare con la stessa efficacia ed economicità. Si tratta di un importante servizio di presidio coro, ha aggiunto Francesca Rotta, presidente di Silea, che vede impegnati tutti i soggetti del territorio, comuni, soci, provincia e Silea. Anche quest'anno abbiamo messo a disposizione le risorse necessarie per far fronte a interventi straordinari di recupero dei rifiuti abbandonati. Restano invariate anche le modalità di adesione, i comuni dovranno segnalare alla provincia le situazioni più rilevanti. Una volta ripulite le aree interessate, le amministrazioni sono chiamate a evitare che questo fenomeno si ripeta con campagne di informazione oppure con deterrenti quali recinzioni e sistemi di videosorveglianza. Vigili del fuoco al lavoro nel primo pomeriggio a Vercurago per un incendio in via Valsecchi. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato un'auto e delle sterpaglie. Al momento non sono note le cause del rogo. Due le squadre impegnate nell'intervento. Vediamo gli altri servizi. Fratelli d'Italia si rafforza in consiglio comunale Alecco. Stando ai dati delle ultime elezioni regionali, il partito della Premier Meloni non è il primo in città per poche decine di voti ma, dall'alto delle sue 3838 preferenze, è il primo della coalizione di centrodestra a 7 punti percentuali sopra la Lega. L'elezione di Giacomo Zamperini a consigliere regionale ha innescato una riorganizzazione fra le forze del centrodestra Palazzo Bovara. Al suo posto è entrata la prima delle non eletti, Alessandra Rota, ma il gruppo di Fratelli d'Italia ha guadagnato un consigliere in più. Si tratta di Filippo Boscagli, esponente di Comunione e Liberazione, già candidato con la civica Lecco Ideale, che diverrà capogruppo di Fratelli d'Italia. Come tanti altri amici, spiega Boscagli, sono convinto che oggi la proposta politica di Giorgia Meloni e del suo partito, proprio sulla spinta della Premier, sia l'unico luogo in cui possa trovare uno spazio in un mondo politico, cattolico, popolare e addirittura liberale. Molti esponenti che si riconoscono in questi valori, puntualizza Boscagli, sono già confluiti in Fratelli d'Italia. Anche a Lecco vogliamo investire su una nuova scommessa politica che faccia di Fratelli d'Italia il primo grande partito della città. Stiamo crescendo, afferma il portavoce provinciale Fabio Mastro Berardino, e il capoluogo nella dimostrazione sia a livello elettorale sia all'interno delle istituzioni. È un nuovo inizio per il partito che all'interno del Comune di Lecco, spiega Mastro Berardino, dimostrerà la forza di una proposta unitaria, la capacità di aggregare diverse forze del centro-destra, dando loro una casa e una rappresentanza politica. Nei prossimi giorni saranno definiti meglio i ruoli all'interno del gruppo consigliare. Tavolini ancora polemiche, roventi. A smorzare le proteste non basta la scelta dell'amministrazione comunale di Lecco di concedere a ristoranti e bar del centro una moratoria sulle nuove regole di occupazione del suolo pubblico da Pasqua al primo maggio. Una scelta presa a conseguenza della sospensiva che il TAR ha concesso a un ristorante del centro, il Mamma Ioa, che aveva ricorso contro il digniego dell'amministrazione a occupare uno spazio esterno in piazza Cermenati utilizzato dallo stesso esercizio da più di un decennio, concedendolo a un altro bar. L'amministrazione da che parte sta? Si chiede in una lettera aperta al titolare. Soprattutto a quale interesse pubblico sta tutelando nel continuare a sostenere che solo il ristorante Mamma Ioa debba cessare di occupare lo spazio pubblico da sempre occupato per raddoppiare quello di un altro esercente a parità di canone di occupazione percepito. Questa amministrazione, con cui della nota, dovrebbe spiegare agli esercenti e la città perché ha ignorato del tutto la proroga concessa dal legislatore nazionale, intimando lo sgombero coattivo al ristorante Mamma Ioa e costringendolo a ricorrere al TAR. Un pronunciamento, quest'ultimo, contro il quale l'assessore all'attrattività Giovanni Cattaneo ha annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato per una questione di equità. Decisione criticata da Corrado Valsecchi, consigliere di appello per l'ECO. Per l'amor del cielo dichiara ci sta a perdere una partita, ma Cattaneo annuncia già l'avvio di una procedura presso il Consiglio di Stato. Dovesse perderla, la cosa comincia a diventare pesante anche per le casse del comune che deve pagare gli avvocati propri e quelli della controparte, come è avvenuto al TAR regionale. Critiche poi anche sulla proroga di venti giorni dopo la sentenza, conclude il consigliere di appello per l'ECO. Bastava congelare per questa stagione il regolamento. Ma l'assessore Cattaneo ha una vaga idea di cosa vuol dire fare impresa? Per un gioco di luci e ombre, tra le 10 e le 12 del mattino, sul fianco del corno birone, si staglia una figura antropomorfa, quella che ha ispirato l'artista Gaetano Orazio per il progetto Belvedere del Trovante. In qualche modo, un cerchio che si chiude per Orazio, campano d'origine emanato artisticamente nei paesaggi dell'Abrianza, ai quali è molto legato. Individuato il trovante, l'artista ha deciso di realizzare 10 sagome in ferro che lo ritraggono e le ha posizionate i luoghi panoramici da cui si scorge la figura originale. Trovante è un termine preso in prestito da Antonio Stoppani che denominava trovante i massi eratici. Soprattutto è un'ombra che io non avevo mai visto ma per 20 anni andando a dipingere accanto alla Baccia di Sempietolmonte e questa figura la ripetevo. Se non che poi nel 2018 mia moglie era accanto a me e mi diceva guarda sulla montagna c'è una figura che sembra la tua pittura e mi è apparsa questo trovante. Queste sagome, queste sculture di ferro sono dei trovanti come massi eratici disseminati nel territorio dell'Abrianza. All'iniziativa hanno aderito la provincia di Lecco la fondazione comunitaria dell'Ecchese l'Ario Fiere Comolecco a 5 e 10 comuni dell'Abrianza quelli che ospitano le sagome con Molteno Capofila. Questo progetto è nato grazie all'amicizia che mi lega con Gaetano Razio e da cui poi è nata appunto l'idea di trovare dei comuni da cui si vedeva bene il trovante sul Monte Birone. Molteno è stato poi un po' il trade union tra tutti questi comuni che hanno accolto positivamente quest'idea. Sappiamo bene come quando si va a tagliare qualche cosa si taglia subito sulla cultura e in realtà questi comuni sono stati estremamente sensibili nel mettere a disposizione tempo e risorse per realizzare questo progetto. Un'iniziativa culturale grazie a Gaetano Razio che sviluppa proprio il nostro territorio dà ricchezza al nostro territorio dico sempre che non ci sono solo beni materiali ma ci sono anche beni immateriali. Per la provincia di Lecco è stato solo che un piacere direi anche un dovere partecipare a questo progetto darne il patrocinio e contribuirne anche alla realizzazione. Tra aprile e maggio si svolgeranno nove incontri itineranti alla scoperta delle sagome del trovante e del corto realizzato da Moreno Pirovano. Il 16 aprile verrà inoltre allestita una mostra nello studio dell'artista in Via Costa d'Oro a Barzanò Gara dei record la scorsa domenica in Valbronese i 26 chilometri di percorso con 1900 metri di dislivello del trail dei corni Luca Delpero e Alice Gaggi li hanno affrontati con tempi mai visti in questa competizione di corsa in montagna 2 ore 25 minuti 19 secondi per l'atleta di karate Brianza nei maschili e 2 ore 58 minuti e 26 secondi per la Sondriese nei femminili hanno tagliato il traguardo per primi su 200 partecipanti Gara dei record dunque ma anche delle novità per questa quinta edizione della gara podistica organizzata dalla sportiva valbronese la partenza è stata anticipata di due mesi e mezzo c'è stato un cambio di federazione ora sotto la Fischi Federazione Italiana Sky Running e il percorso è migliorato con paesaggi mozzafiato che hanno accompagnato gli atleti confermato invece lo Junior Trail si sono sfidati anche i Mini Runners in una gara tutta per loro dopo Luca Delpero atleta Skylario Runners e Team Scarpa tagliare il traguardo Davide Della Mina del Team Pasturo e Luigi Pomoni di ASD Falchilecco con la Gaggi atleta Re Castello e Team Bux già campionessa europea e mondiale di corse in montagna sul podio al secondo e al terzo posto Irene Mantica DGS Erocchiella Garfagnana e l'istruttrice di Snowboard Valdostana Roberta Giacchin di Pegaran a fine gara il comitato organizzativo ha voluto ringraziare il pubblico caloroso e tutti i volontari che hanno garantito il corretto svolgimento della manifestazione e bentornati in studio per un'ultima notizia il nuotatore lecchese Andrea Oriana è stato il primo a nuotare per 24 ore in una vasca natatoria di 25 metri più di 90 km l'atleta olimpico affiliato alla società Canottieri Lecco è partito alle 17.05 di sabato 1 aprile a Bormio con l'obiettivo di battere il record mondiale di distanza percorsa in una vasca da 25 metri Oriana ha terminato la sua prova domenica 2 aprile con una distanza percorsa di 90,1 km in 24 ore a circa 12 km dal record mondiale ma che equivalgono alla miglior prestazione nazionale la presenza di una giuria federale composta ha attestato in via formale la distanza percorsa e questa era la nostra ultima notizia grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sul nostro canale grazie per la visione